Le Neuroimmunology Lectures organizzate grazie a DAIM, Associazione Italiana Miastenia, che cosa mirano? Allora, mirano a informare medici, biologi, gli scienziati in generale su quelli che sono gli avanzamenti nei vari settori della neuroimmunologia e soprattutto neuroimmunologia traslazionale, cioè il contatto tra il lavoro di laboratorio e l'applicazione clinica. L'Associazione AIM è molto vicina ai pazienti, quali sono le attività che svolgete? Fondamentalmente facciamo un'attività di formazione, di informazione della malattia e di assistenza ai pazienti. Su questo si inserisce l'attività di ricerca, che è un'attività di ricerca che si svolge principalmente all'Istituto Neurologico Carlo Besta. Per quanto riguarda le tematiche trattate in questa sessione importante, gli esperti a livello internazionale che cosa fanno emergere? Allora, la prima cosa importante è che ci sono dei trattamenti che sono in comune a diverse patologie anticorpo mediato. La miastenia è una malattia anticorpo mediata, ma anche la neuromia è liteottica e quindi si possono usare trattamenti che sono del tutto condivisi. Con l'interazione con gli oculisti aiuta in che senso? L'interazione con gli oculisti è molto importante perché molte delle malattie neurologiche esordiscono con un sintomo per cui gli oculisti sono chiamati in prima battuta a visitare i malati. E quindi è molto importante una collaborazione tra oculisti e neurologi. Dottor Danilo Mazzacane, segretario generale della società medico-scientifica Gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi. Ebbene, quanto è importante a livello territoriale che ci sia più formazione anche per la figura dei neuro-oftalmologi? Noi oculisti ambulatoriali territoriali lavoriamo in prima linea per cui il paziente giunge talvolta confuso ed è in difficoltà anche a manifestare la problematica che lo assilla. Per quanto riguarda le varie branche specialistiche sicuramente è il momento di prendere in serie a considerazione la multidisciplinarietà dell'approccio, quindi la collaborazione fra più specialisti, gli oculisti e i neurologi per esempio, per la gestione di diverse patologie. Ovviamente è necessario un adeguato aggiornamento professionale degli oculisti ambulatoriali territoriali sia per essere al passo con le innovazioni sia in campo di diagnostica che di terapia, sia per realizzare dei percorsi ai quali fa ricorso per affidare il paziente al collega specialista. Grazie. Grazie.